Grazie, buona sera, benvenuti a questa penultima puntata del leggere Dante. Mi dispiace per il disagio creato dal fatto che abbiamo dovuto cambiare sete, anche se questa sede è una sede splendida e vedo che state seduti più comodi rispetto alla Pergola, ma non dipende da noi ma dipende dall'incidente che è accaduto alla Pergola, questo principio di incendio, il teatro è chiuso e quindi anzi dobbiamo ringraziare chi ci ha ospitati in questa circostanza. E vi ricordo che anche martedì prossimo, e cioè l'ultima delle manifestazioni teatrali organizzate dalla società, si svolgerà appunto qui al Cinema Teatro Odeon. Ecco, quindi, un benvenuto a tutti per il quarto appuntamento della nostra iniziativa, il premio Francesco Mazzoni, leggere Dante. Un ringraziamento particolare per il teatro che ci è stato gentilmente concesso alla dottoressa Stefania Ippoliti. Ecco, dopo gli appuntamenti che ci hanno visto premiare sul palco della Pergola il 7 aprile Gigi Proietti, il 19 aprile Sonia Bergamasco, il 5 maggio Umberto Orsini, oggi continuiamo con la formula consolidata del nostro appuntamento, appunto, con il premio Francesco Mazzoni e le letture del ciclo leggere Dante. Oggi avremo, dopo la vera e propria consegna del premio a Giuliana Loiodice, una lettura di versi danteschi comparati, tra Dante e Ugo Foscolo. La lettura sarà, come sempre, introdotta da un commento critico che è affidato, in questa circostanza, al professore Riccardo Bruscagli. Vi ricordo anche che il prossimo e ultimo appuntamento sarà con Alessandro Haber, martedì 24 maggio, sempre, appunto, qui al Teatro Odeon. Alessandro Haber, oltre a ricevere il premio, leggerà Passi di Dante e di Alessandro Mazzoni. Ecco, prima di entrare nel vivo della premiazione, come mio dovere, ringrazio, come sempre, gli enti sostenitori di questa manifestazione. In primo luogo, l'ente Cassa di Risparmio di Firenze, sotto la cui egida il premio si svolge. E un grazie ancora, appunto, al Teatro Odeon che ci ospita, all'Università degli Studi di Firenze e al suo Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, al Dams e al Rinascimento Digitale per la collaborazione tecnica. E un augurio al Teatro della Pergola che possa riaprire quanto prima dopo questo incidente increscioso. Infine, un grazie anche agli enti patrocinatori che stanno al Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Regione Toscana e Comitato per i festeggiamenti del 150esimo dell'Unità Italiana sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed è questa la circostanza per la quale è stata adattata la nostra lettura dantesca, appunto, ai grandi scrittori dell'Ottocento. Ecco, detto questo, passiamo alla consegna del premio Francesco Mazzoni. Vi ricordo che è giunto alla terza edizione e che, come ripeto ogni volta, nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici da percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive. Un premio che è consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni, che è stato presidente per un quarantennio della società dantesca italiana, declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui son prova queste iniziative teatrali dantesche che furono volute da lui e seguite e onorate finché questo fu possibile. Per la premiazione di oggi chiamo sul palcoscenico il nostro protagonista di oggi, una grandissima attrice che tutti conoscete, Giuliana Loiodici. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Spettate prima di crollare in platea. Ecco, do lettura della motivazione del premio. Poche, se non addirittura rare, sono in Italia le interpreti capaci di sorprendere costantemente lo spettatore con una reale etimologica intelligenza del personaggio, intesa come capacità di leggere dentro le pieghe della psiche e delle motivazioni di un carattere. Questa perspicacia del ruolo, mai disgiunta da un'appassionata generosità per il pubblico, è stata da sempre l'ingrediente più sapido e intrigante della personalità attoriale di Giuliana Loiodici. Signora della scena, certo, ma ancora prima maestra della scena, che sa spaziare con padronanza ammirabile in tutto il ventaglio della drammaturgia, dal crogiolo di Arthur Miller, con cui debuttò nel 59, diretto da Lucchino Visconti, alla commedia di Feidu e George Bernard Shaw, senza dimenticare il trionfo accanto a Marcello Mastroianni nella commedia musicale Ciao Rudy. E se già all'inizio degli anni 60 Giuliana Loiodici mostrava tutti gli artigli del suo talento scenico, è nel 1966 che la sua carriera decisamente svolta, non solo per la grandissima notorietà che le dà ad esempio il televisivo Fonte di Monte Cristo, ma altresì e soprattutto per il decisivo incontro umano e artistico con l'indimenticabile Rodotieri. La coppia, o come si diceva la ditta teatrale Tieri Loiodice, ha costituito una solida garanzia di ottimo teatro per decenni, a passaggio del millennio, supportata peraltro da un ulteriore formidabile solarizio con quello col regista Giancarlo Sepe. Ed ecco debuttare allestimenti da Moliere, Svevo, Pirandello, Eduardo e Oscar Wilde, nonché la nuova e nuovissima drammaturgia che Giuliana Loiodice continua ancora oggi sapientemente a frequentare, come rivela l'unanime successo delle ultime stagioni nei panni di una straordinaria governante kafkiana in casa Samsa per l'arca azzurra di Ugo Chiti. E il sigillo è la conferma di una libera navigatrice della nostra scena, senza scordarne i successi cinematografici, diretta da Ettore Scola, più recentemente da Roberto Benigni nel film premio Oscar La vita è bella. Il premio Francesco Mazzoni le viene qui consegnato con participe e ammirazione, ma anche con quel tocco di affettuosa gratitudine per la sua costante, intancabile dedizione al benessere del teatro. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, 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 gra sempre riconoscente comunque a tutti coloro che hanno pensato di darmi un contributo e di volermi premiare se non altro per la tenacia e per la costanza con cui ho inseguito sempre e non voglio dire quasi sempre perché anche quando ho fatto le commedie musicali ho presentato Sanremo oppure ho fatto Feidu oppure ho fatto Noel Coward non di meno mi sono sentita sempre impegnata a donare al pubblico qualche cosa di serio di rispettoso nei suoi confronti di fare soprattutto quando poi ho cominciato la mia ditta con Aroldo delle scelte con cognizione di causa non pensando soltanto a me stessa o alla ditta ma pensando al pubblico ogni volta che si sceglieva un testo un autore anche difficile noi pensavamo a chi lo proponevamo ed eravamo certi che anche nella difficoltà di un linguaggio come Rosso di San Secondo piuttosto che Joyce il pubblico ci avrebbe rimeritato di un rispetto e di un'attenzione dovuta a chi ha fatto di questo lavoro un impegno costante 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 di lavoro e soprattutto di vita ci siamo tenuti fuori dai facili scandalismi voi lo sapete Aroldo non amava mai essere nei giornali oggi probabilmente con Laura che spira nei gossip spaventosi e volgari che infestano ormai l'Italia direbbe Dante certamente Aroldo sarebbe stato una persona fuori dai tempi perché non avrebbe compreso il perché di questi mutamenti di queste cose banali che hanno travolto poi oltretutto molta parte di pubblico che ormai si rivolge non esattamente alla cultura ma molto spesso soltanto al disimpegno e alla non qualità questo è una cosa scusatemi se lo dico scusatemi se lo dico però certamente io lo devo notare perché vi assicuro che oggi come oggi formare una compagnia e proporre una cosa seria come mi capiterà per esempio e io lo dico a luglio a San Mignato perché fa parte della nostra cerchia io proporrò un testo di Bergman per cui ancora una volta le persone diranno ma la Loi Odici ci dà duro dentro e però queste sono le mie scelte questo è il mio piacere che però ho scoperto molte volte di essere anche il piacere di coloro a cui le ho proposte per cui sono felice di continuare con tenacia e con costanza la via che ho intrapreso con il mio grande Aroldo grazie grazie a tutti voi grazie 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 ah questa è la motivazione di cui sono molto grata che io conserverò grazie grazie infinite e adesso ci dovrebbe essere il professor Bruscagli nella memoria comune io credo che il Dante di Ugo Foscolo sia il Ghibellin Fuggiasco del celebre Passo dei Sepolcri in cui magnificando Firenze il poeta le attribuisce il privilegio di aver assistito per prima allo spiegarsi del canto dantesco ricordate tu prima Firenze udivi il carme che allegro l'ira al Ghibellin Fuggiasco così come credo che siano nella mente un po' di tutti le note a piedi pagina che faticosamente cercano di spiegare a proposito di questi versi come qualmente un Guelfo moderato, un Guelfo bianco come Dante si trasformi per il Foscolo in un arrabbiato Ghibellino dunque perché Dante è un Ghibellin Fuggiasco per il Foscolo? si potrebbe rispondere che Dante è Guelfo bianco, appunto Guelfo moderato essendo un po' meno filo pontificio dei Guelfi estremisti, dei Guelfi neri poteva dirsi di conseguenza un po' filo Ghibellino insomma come un moderato di centrodestra che sarà sempre più a sinistra di un fascista spiegazione debole in realtà questa convinzione di un Dante Ghibellino non è una forzatura poetica occasionale ma una persuasione profonda e costante del Foscolo nel suo discorso sul testo della commedia di Dante Foscolo conferma Dante quale testualmente Ghibellino implacabile nelle epoche della lingua italiana allude addirittura un nicodemismo politico della Lighieri che secondo lui fu da sempre Ghibellino coperto cioè un filo imperiale costretto a fingersi Guelfo mentre invece, questo è il punto, sarebbe indubitabile da sempre il suo amore all'impero e la sua micidiale avversione per la chiesa di Roma Dante, così lo definisce ancora Foscolo poeta di nome terribile e di mente implacabile contro la chiesa e d'altronde Foscolo non è il solo in questa sua convinzione anche il suo maestro e mentore Vincenzo Monti in Un carne alla contessa ma alla spina si era spinto a dipingerlo ramingo della patria e caldo d'ira e di bile Ghibellina il petto il Dante del Foscolo è dunque prima di tutto l'irato, amaro e bilioso detrattore della chiesa romana facile e certo ritrovare nella commedia passi che siano malevadori di questa idea stasera udiremo, fra l'altro, le vehementi terzine che nella Bolgia dei Simoniaci Dante rivolge al Papa Nicolo III confitto ricorderete in una buca a testa in giù mentre Dante gli rimprovera la prostituzione della chiesa schiava del denaro qui identificata addirittura con la fiera mostruosa dell'Apocalisse a contrasto con la frugalità e povertà della chiesa primitiva e mentre io li cantava cotai note o ira o coscienza che il mordesse forte spingava con ambe le piote mentre Dante sfoga la sua indignazione di cristiano offeso dai crimini della sua chiesa il Papa Simoniacos gambetta fuori della sua buca per dispetto o per tardivo pentimento mentre, non scordiamocelo, sulle sue piante trascorre a rendere più acre la pena una fiamma ardente sarcastica allusione nella parodia del contrapasso alla fiammella dello Spirito Santo che scese sugli Apostoli a Pentecoste o anche ironica aureola o meglio contro aureola che incornicia non la testa ma i piedi di questi peccatori che hanno letteralmente rovesciato messo a capo all'ingiù appunto i valori fondanti della chiesa di Cristo e tuttavia la semplificazione di questo Dante Ghibellino non dipende soltanto da una parzialità ideologica del foscolo che cerca in Dante un laicismo patriottico evidentemente anacronistico essa dipende anche dalla effettiva approssimazione delle conoscenze dantesche di Ugo Foscolo e di tutta la sua età bisognerebbe tenere sempre a mente in che anni siamo nei primissimi dell'Ottocento in un'epoca in cui Dante è appena uscito dall'indifferenza o dal franco disgusto del razionalismo settecentesco nei confronti della sua poesia appena uscito per dire dai graffi della penna del Bettinelli che aveva scritto da par suo una esilarante parodia della macchina allegorica del secondo canto infernale insomma bisogna tenere a mente che il Dante del Foscolo è per così dire un Dante senza dantismo un Dante senza società dantesca un autore ancora misterioso e malnoto il primo brano che ascolteremo in cui la commedia è presentata dal Foscolo sentiremo come un'immensa foresta chiusa ancora nella sua oscurità primitiva ancora da perlustrare nell'orrore della sua oscurità e dei suoi labirinti restituisce molto bene non solo lo stato degli studi danteschi di allora ma l'impressione sgomenta e affascinata insieme dei lettori di quel tempo non sarà un caso infatti che lo scritto dantesco più impegnativo di Ugo Foscolo sia come ho già ricordato il discorso sul testo della commedia un tentativo davvero pionieristico di ristabilire dati di verità intorno alla lettera del poema dantesco alla sua datazione e soprattutto intorno alla biografia del poeta compito umile e necessario se Foscolo deve ingegnarsi a controbattere le nozioni come quella che Dante avesse scritto il suo primo sonetto il primo della vita nuova all'età di nove anni ma come il Foscolo stesso commenta gli eruditi del suo tempo né lessero attenti il poema di Dante né forse il percorsero mai dal primo all'ultimo verso il sacro orrore il mistero l'oscurità che avvolge ancora il testo dantesco d'altronde lo promuove nel Foscolo a testo esemplare di poesia primitiva una poesia in cui il poeta è ancora cantore dell'anima collettiva di un popolo o meglio ancora è vate anzi vatefero come sentiremo nel sonetto E tu ne carmi e più che vate è profeta e teologo o come scrisse Foscolo stesso allora il poeta era profeta e legislatore ispirato e guidatore a vita meno feroce operava liberissimo guardava tutto da sé e ogni cosa era gli nuova è l'idea vichiana naturalmente della poesia come espressione di epoche tutto stupore e ferocia è il Dante di un medioevo di sensi smisurati di lotte sanguinose di grandiose primitive appunto passioni ma non è un medioevo solo pittoresco Foscolo fa tornare sentiremo anche questo il suo Jacopo il suo Jacopo Ortis a Montaperti la visita al campo di battaglia della celebre sconfitta della Firenze Guelfa e che già direttamente come naturale l'episodio infernale di Farinata l'aspro confronto tra il grande Ghibellino chiuso nella sua alterigia aristocratica caparbiamente persuaso delle sue ragioni politiche ma anche così disarmante e vulnerabile nello sconcerto di fronte all'odio dei suoi concittadini perché quel popolo essi empio incontra i miei in ciascuna sua legge e dall'altra parte Dante prima tagliente nel suo rinfaccio poi smontato anche lui dalla generosa grandezza dell'avversario il foscolo evoca montaperti attraverso un esagitato sabba di spettri un vero e proprio pezzo di maniera lugubre ma non sfugga il dolente cuore politico del brano che cortocircuita la storia antica e quella contemporanea le lotte fra triside medievali e le divisioni dell'Italia moderna la cecità politica dei Guelfi e Ghibellini di un tempo e quella degli italiani odierni pronti come gli antichi a sbranarsi in antagonismi che li condannano a un destino di schiavitù e allora naturalmente i sepolcri carme politico come dichiarò il foscolo l'autore considera i sepolcri politicamente a scansare ogni vera parentela con la voga della poesia cimiteriale contemporanea e infatti i sepolcri non sono un carme sulla morte sulla immortalità o meno dell'anima sul nostro destino eterno non sono un carme né filosofico né metafisico né religioso sono un carme politico che risponde alla domanda a cosa serve la tomba a cosa serve potremmo tradurre noi la ritualizzazione collettiva e pubblica del lutto dentro la polis dentro la città per cui al centro del carme non c'è la morte ma la memoria la capacità di una comunità di avere e serbare memoria di se stessa di qui il brano splendido che sentiremo qui ancora una volta sulle tombe di Santa Croce e di Maratona e quando dopo aver ricordato le tombe fiorentine Foscolo afferma che tutto è stato rubato all'Italia tutto tranne la memoria i versi famosi saranno da prendere alla lettera con profonda serietà armi e sostanze ti invadeano ed are e patria e tranne la memoria tutto anche qui bisognerà tener conto degli anni degli anni di composizione dei sepolcri 1806-7 e anche dei 150 anni che ci separano dalla conquista della nostra unità nazionale ovvero da un evento che nessuno appunto nel 1806-7 avrebbe potuto credere in buona fede possibile a breve per cui queste memorie fiorentine dei sepolcri non dobbiamo leggerle come la trionfante celebrazione delle glorie italiane e se sono invece il deposito residuale di una identità perduta anzi sempre agognata e mai raggiunta e se sono davvero l'unica cosa che resta l'unico bene immateriale esile effimero minacciato in cui si può ancora riconoscere una comunità spogliata di tutto mia sepolcri infine si annida anche l'ultimo legame che avvince profondamente Foscolo a Dante e mi sembra proprio la celebrazione di Firenze qui ricordata dal Foscolo nella struggente bellezza del suo paesaggio e nell'ineguagliabile deposito delle sue memorie di civiltà una Firenze che anche nel sonetto e Tunne Carmi tornerà anche qui nella sua suggestione estetica e memoriale la città dove dice Foscolo oggi al pellegrino del ferrovate la Magion si addita in fondo se ci pensiamo dopo Dante forse bisogna arrivare proprio al Foscolo per ritrovare una simile capacità di invenzione dell'immagine poetica di Firenze la Firenze del Boccaccio non è altro che una topografia della beffa una nomenclatura senza volto così che dalle terzine innamorate di nostalgia con cui Cacciaguida in Paradiso rievoca la Firenze dei suoi tempi forse bisogna proprio arrivare alla Firenze del Foscolo per trovarne una trasfigurazione di uguale bellezza anche se i tempi cambiano la Firenze di Cacciaguida e di Dante è una città dentro le mura splendida di civiche virtù mentre quella del Foscolo è già la città d'arte incoronata da suoi colli profumati nel plenilunio pronta a incantare i viaggiatori i viaggiatori e gli esuli perché le due Firenze di Dante e del Foscolo sembrano scambiarsi il compito città perduta e matrigna per il Ghibellin Fuggiasco città di accoglienza per l'esule Foscolo non meno che per il suo esule Ortis e in questo strano doppio destino di Firenze di città che condanna all'esilio e di città che si apre agli esiliati si legge forse un tratto non minore della nostra storia nostra di italiani intendo Vicente sempre in cerca di una patria che non c'è di una patria che si nega o che sfugge di una patria ostile o effimera di una patria che rende così difficile essere suoi cittadini anche in questo Dante e Foscolo si specchiano l'uno nell'altro e probabilmente noi stessi in loro Foscolo parla di Dante nel febbraio 1818 il poema di Dante è come un'immensa foresta veneranda per la sua vetustà che riempie di stupore per il rigoglio delle piante che per virtù di una natura potente aiutata da una certa qualarte sconosciuta una foresta singolare per la vastità delle regioni che essa ricopre ma anche per l'orrore della sua oscurità e dei suoi labirinti un sentiero vi apersero i primi viandanti che si posero ad attraversarla quelli che li seguirono lo allargarono e rischiararono ma il cammino rimane ancora lo stesso e dopo le fatiche di cinque secoli la maggior parte di questa immensa foresta rimane ravvolta quasi nella sua oscurità primitiva il dante delle guerre civili decimo canto dell'inferno ci tengo a dire che i canti sono stati anche in framezzo tagliati perché non si poteva farli tutti altrimenti non avremmo raggiunto un orario congruo per noi e per voi o tosco che per la città del foco vivo ten vai parlando onesto piacciati di restare in questo loco la tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto subitamente questo suono uscì od una dell'arche però mi accostai temendo un poco più al duca mio ed el mi disse volgiti che fai vedi la farinata che si è dritto dalla cintola in su tutto il vedrai io aveva già il mio viso nel suo fitto ed è sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispetto e l'animose mande il duca e pronte mi pincer tra le sepulture a lui dicendo le parole tue si inconte come io al piede la sua tomba fui guardò mi un poco e poi quasi svegnoso mi dimandò chi fuorli maggior tuoi io che era dubbidir desideroso non gliel celai ma tutto gliela persi onde levò le ciglia un poco in suso poi disse fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte sì che per due fiate li dispersi se i fur cacciati e i tornar d'ogni parte risposi io lui l'una e l'altra fiata ma i vostri non appreser ben quell'arte se li han quell'arte disse male appresa ciò mi tormenta più che questo letto ma non cinquanta volte fia riaccesa la faccia della donna che qui regge che tu saprai quanto quell'arte pesa e se tu mai nel dolce mondo regge dimmi perché quel popol è siempio in contra miei in ciascuna sua legge un dio a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso tal orazione fa far nel nostro tempio poiché ebbe sospirando il capo mosso a ciò non fu io sol disse né certo senza cagion con gli altri sarei mosso ma fu io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via fiorenza colui che la difesi a viso aperto ugo foscolo dalle ultime lettere di jacopo ortis firenze 25 settembre ho corsa tutta toscana tutti i monti e tutti i campi sono insigni per le fraterne battaglie di quattro secoli addietro i cadaveri intanto di infiniti italiani ammazzatisi hanno fatto le fondamenta a troni degli imperatori e dei papi sono salito a monte aperto dove è infame ancora la memoria della sconfitta dei guelfi albeggiava appena un crepuscolo di giorno e in quel mesto silenzio e in quella oscurità fredda con l'anima investita da tutte le antiche e fiere sventure che sbranano la nostra patria o mio lorenzo io mi sono sentito rabbrividire e rizzare i capelli io gridava dall'alto con voce minacciosa e spaventata e mi pareva che salissero e scendessero dalle vie dirupate della montagna le ombre di tutti quei toscani che si erano uccisi con la spada e le vesti insanguinate guatarsi biechi e fremere tempestosamente e azzuffarsi e lacerarsi le antiche ferite o per chi quel sangue il figlio oltronca il capo al padre e lo squassa per le chiome e per chi tanta scellerata carnificina i re per cui vi trucidate si stringono nel bollore della zuffa alle destre e pacificamente si dividono le vostre vesti e il vostro terreno urlando io fuggiva precipitosamente guatandomi dietro e quell'orride fantasie mi seguitavano sempre e ancora quando io mi trovo solo di notte mi sento attorno a quegli spettri e con essi uno spettro più tremendo di tutti e che io solo conosco e perché io debbo dunque o mia patria accusarti sempre e compiangerti senza niente speranza di poterti emendare o di soccorrerti mai diciottesimo canto dell'inferno io non so sì mi fui qui troppo folle chi pur risposi lui a questo metro dè ormi di quanto tesoro volle nostro signore in prima da san pietro che iponesse le chiavi in sua balia certo non chiese se non vienmi retro né pier né gli altri tolsero a mattia oro o d'argento quando fu sortito all'oco che perde l'animaria però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la maltolta moneta che esserti fece contro carlo ardito e se non fosse cancorlo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta io userei parole ancor più gravi che la vostra avarizia il mondo attrista calcando i buoni e sollevando i pravi di voi pastor s'accorse il evangelista quando colei che siede sopra l'acqua e puttaneggiar coi regi a lui fu vista quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque fatto vavete dio d'oro e d'argento e che altro è da voi all'idolatre se non che gli è uno e voi ne orate cento ah costantini di quanto mal fu madre non la tua conversione ma quella dote che da te prese il primo ricco padre e mentre io li cantava cotai note o ira o coscienza che il mordesse forte spingava con ambo le piote i sepolcri di ugo foscolo dal verso centocinquantuno al duecentodudici marzo mille ottocentos a egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti o pindemonte e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta io quando il monumento vidi dove pose il corpo di quel grande che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda e dalle genti svela di che lagrime grondi e di che sangue e l'arca di colui che nuovo limpo alzò in Roma a celesti e di chi vide sotto le tere o padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto onde all'anglo che tanta ala vistese sgombrò pria le vie del firmamento te beata gridai per le felici aure e pregne di vita e pelavacri che da suoi giochi a te versa pennino lieta dell'air tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmia festanti e le e le convalli popolate di case e doliveti mille di fiori al ciel mandano incensi e tu prima firenze udivi il carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco e tu i cari parenti e l'idioma desti a quel dolce di callio pelabro che amore in grecia nudo e nudo in roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a venere celeste ma più beata che in un tempio accolte serbi lita le glorie uniche forse da che le malvietate alpi e l'alterna onnipotenza degli umani sorti armi e sostanze ti invadeano e dare e patria e tranne la memoria tutto che ove speme di gloria agli animosi intelletti rifulga e dall'Italia quindi trarremo gli auspici e a questi marmi venne spesso vittorio ad ispirarsi irato a patria in umi errava muto ove arno è più deserto i campi e il cielo desioso mirando e poiché nullo vivente aspetto gli molcea la cura qui posava l'austero e avea sul volto il pallor della morte e la speranza con questi grandi abita eterno e l'ossa frema un amor di patria ah sì da quella religiosa pace un nome parla e nutria contra i persi in maratona ove atene sacro tombe a suo prodi la virtù greca e lira il navigante che veleggiò quel mar sotto le ubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar velmi ed i cozzanti brandi fumar le pire igne o vapor corrusche d'armi ferre e vedea larve guerriere cercar la pugna e all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube e un incalzar di cavalli accorrenti scalpitanti sugli elmi amoribondi e pianto ed inni e delle parche mi canto quindicesimo canto del paradiso fiorenza dentro della cerchia antica della toglia ancora e terza e nona si stava in pace sobria e pudica non avea catenella non corona non gonne contigiate non cintura che fosse a veder più che la persona non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre che il tempo e la dote non fuggì in quinci e quindi la misura non avea case di famiglia vote non vera giunto ancora sardana palo a mostrare ciò che in camera si puote non era vinto ancora monte malo dal vostro uccellatoio che come è vinto nel montarsù così sarà nel calo lì bellin lì bellinciomberti vidio andar cinto di cuoio e dosso e venire dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto e vidio quel di nerli e quel del vecchio esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennacchio fortunate ciascuna era certa della sua sepoltura e ancora nulla era per Francia nel letto diserta l'una veghiava a studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla l'altra traendo alla rocca la chioma favoleggiava con la sua famiglia di troiani di fiesole e di roma saria tenuta all'ortal meraviglia una cianghella un lapo saltarello qual or seria cincinnato e corniglia e così ha così riposato ha così bello viver di cittadini ha così fida cittadinanza ha così dolce o stello Maria mi diè chiamata in alte grida e nell'antico vostro batisteo insieme fui cristiano e caccia guida ugo foscolo a firenze e tu ne carmi avrai perenne vita sponda che arno saluta in suo cammino partendo la città che del latino nome accogliea finor l'ombra fuggita già dal tuo punte all'onda impaurita il papale furore il ghibellino mescea in gran sangue ove oggi al pellegrino del ferro vate la maggiun si addita per me cara felice inclita riva ove sovente i piele giadri mosse colei che vera il portamento diva in me volgeva sue luci beate mentre io sentia dai crindoro commosse spirar ambrosia laure innamorate Dante l'esilio nel convivio poiché fu piacere degli cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma Fiorenza di gittarmi fuori dal suo dolce seno nel quale nato e nutrito fui in fondo al colmo della vita mia e nel quale con buona pace di quella desidero con tutto lo cuore di riposare l'animo stancato e terminare lo tempo che mi è dato per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende peregrino quasi mendicando sono andato mostrando contro mia voglia la piaga della fortuna che suola ingiustamente al piagato molte volte essere imputata veramente io sono stato legno senza vela e senza governo portato a diversi porti e foci e leiti dal vento secco che evapora la dolorosa povertade ugo foscolo l'esilio nelle ultime lettere di jacopo ortis sull'urna tua padre dante abbracciandola mi sono prefisso ancor più nel mio consiglio mai tu veduto mai tu forse padre ispirato tanta fortezza di senna e di cuore mentre io genuflesso con la fronte appoggiata a tu marmi meditava e l'alto animo tuo e il tuo amore e l'ingrata tua patria e l'esilio e la povertà e la tua mente divina e mi sono scompagnato dall'ombra tua più deliberato e più lieto è quello che è difficilissimo comprendere a quell'altezza perché dante come diceva ieri e vi spingo a cercarlo e a leggerlo un bellissimo articolo di magrelli che è uscito ieri su repubblica dove parla appunto della divina commedia di dante e dove dice con ingegno e qualità e profondità e acume che dante ha creato una lingua meticcia perché se siete tranquilli e calmi leggiamo ancora cinque minuti una cosa molto interessante mi ha molto colpito perché oltretutto io non compro quasi più i giornali credo molti di voi però ieri venendo a Firenze e accingendomi a fare questo piccolo dovere che mi sono imposta di fare ho comprato Repubblica stranamente perché dovevo fare il viaggio in treno e dico ma se va compriamo un giornale cosa ti trovo e dante creò una lingua meticcia un bel viatico perché voglio dire io venivo a fare dante per cui mi ha colpito moltissimo questa evenienza questa circostanza e bisogna stare attenti agli incontri anche casuali non sono mai casuali certe cose vengono forse incontro per arricchirci per donarci qualche cosa di più per aprirci un panorama che forse non avevamo ancora sondato per farci comprendere meglio quello che stiamo affrontando e Valerio Magrelli dice fra le tante eccezioni di cui gode l'Italia terra delle eccezioni quella della lingua non è certo fra le più marginali come un unico fiume millenario la sua letteratura deriva infatti da una sola sorgente rappresentata da un singolo testo fondatore la Divina Commedia prendiamo per buona questa approssimazione sorvolando sulla scuola siciliana toscana bolognese come su un autore quale Cavalcanti e proviamo a sviluppare la metafora dalla cima di quell'opera somma un autentico Everest europeo scaturisce la lingua che irriga la nostra poesia la nostra prosa il nostro teatro ma in cosa consiste il segreto di un simile capolavoro direi in una capacità di concentrazione e immagazzinamento sillabico senza precedenti Dante cioè procede a un inaudito stoccaggio del senso la fatica con cui lo leggiamo dipende dal fatto che ogni suo verso possiede un peso specifico immenso dovuto appunto alla spaventosa quantità di senso che contiene per ricorrere a un'altra analogia siamo di fronte a una sorta di congelamento ogni verso della commedia reca in sé sprofondata nel freddo una massa di senso quasi intollerabile cosa fare allora bisognerà passare questi versi al microonde del commento il processo di comprensione richiede cioè di tradurre il cibo dell'autore in un nuovo stato fisico altrimenti detto all'interno di quest'opera il commento equivale a un percorso di riconversione da qui la lentezza del procedere è come se ogni verso fosse un nodo un algoritmo un'equazione da risolvere è verissimo eh sotto questo aspetto la lingua di Dante suona straniera talmente straniera che in certo modo solo uno straniero ha saputo coglierne fino in fondo il segreto penso ovviamente al grande Ospi Mandelstam che ne affrontò la lettura usando la penna come il martelletto del geologo mille immagini sgorgano dal suo saggio tra cui questa osservazione illuminante il commento è parte integrante della commedia la commedia nave portento esce dal cantiero con lo scafo già incrostato di conchiglie ma forse non è un caso che ad afferrare così bene la struttura dell'opera sia stato un poeta di un'altra lingua di un'altra cultura che amava sillabare Dante nei campi di prigionia che usava Dante per resistere al silenzio della tirannia ciò spiega quanto risulti profonda la sorgente della nostra letteratura e aperta a chiunque voglia attingervi prodotta da quelle matrici latine greche provenzali arabe normanne che concorsero alla nascita del dolce stil novo la poesia e dunque la lingua italiana sorsero insomma meticce e come tali sono pronte oggi a ricevere i lettori che giungono a noi da mondi lontani è in questa prospettiva che va intesa la funzione Dante descritta da un critico come Gianfranco Contini plurilinguismo espressionismo dinamicità sono iscritti nel nostro testo fondatore come altre tante forme di accoglienza verso la parola dello straniero l'ospite sacro venerato da Omero pertinente anche a tutto il momento grave che stiamo vivendo se noi condividessimo con qualcun altro che non ci appartiene queste cose meravigliose che invece ci sono appartenute forse troveremmo un connubio di idee e di amore e di spiriti da poter unire ancora una volta grazie voglio ancora aggiungere una piccola cosa quanto mi manca in questo momento Aroldo perché da lui ho imparato come si doveva leggere Dante e io per fortuna ho delle cose sue registrate su Dante ed era un dicitore di Dante strepitoso che questa sera vi avrebbe anche lui commosso e conquistato veramente grazie 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 innanzitutto a Giuliana Loiodice alla sua grande arte e alla sua voce che hanno reso davvero memorabile questa serata non mi resta altro che darvi appuntamento per il prossimo martedì quando sarà qui con noi a Haber per leggere Dante e Manzoni grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti